La Commissione europea ha raggiunto un accordo con Pfizer-BioNTech per la consegna anticipata di altri 50 milioni di dosi di vaccini anti-Covid. Lo ha annunciato la Presidente della Commissione, Ursula von der Leyen, giustificando il nuovo accordo con la necessità di agire rapidamente e aggiustare il tiro per evitare altri ostacoli alle consegne programmate. Credo che quella del vaccino per tutti debba essere la prima azione politica che viene svolta in questo periodo dall'Unione europea e da questo punto di vista credo che purtroppo si è sottovalutato il rapporto con le grandi case farmaceutiche all'inizio. Intanto sul fronte del passaporto vaccinale, il Comitato dei rappresentanti permanenti presso l'Unione europea ha raggiunto un primo accordo. Su questa base si svolgeranno i negoziati con il Parlamento europeo con l'ambizioso obiettivo di rendere questo strumento operativo per l'estate. Noi crediamo che la procedura d'urgenza sia stata il primo passo. Stiamo lavorando e siamo fiduciosi che in questo frangente si possano apportare ulteriori miglioramenti per garantire sicuramente la privacy, per garantire che non diventi una discriminazione, per fare in modo che sia contemporaneamente alla campagna di vaccinazione che deve superare tutte le sue criticità l'elemento per ritornare alla normalità e far ripartire la nostra economia. La BCE da sola non può sostenere la ripresa dell'economia europea. Serve una rapida approvazione del Recovery Fund, da cui si attende una spinta del 5% al PIL dell'Eurozona. Lo ha chiarito il vicepresidente dell'Istituto di Francoforte, Luis De Guindos, presentando all'Europarlamento il rapporto 2020 della Banca Centrale. Secondo De Guindos, l'economia dell'Eurozona dovrebbe riprendersi nella seconda metà dell'anno, ma sarà un recupero fragile. Il ritorno ai livelli pre-crisi non avverrà prima del secondo trimestre del 2022. Per la BCE, inoltre, non bisogna sottovalutare l'importanza che l'approvazione del Recovery Fund ha avuto sugli investitori. A volte la percezione dei mercati è molto più importante delle stesse misure concrete. Nel 2020 le esportazioni e le importazioni di medicinali e di altri prodotti farmaceutici sono aumentate nella stragrande maggioranza degli stati membri dell'UE. Nonostante il calo generale degli scambi commerciali dovuti all'emergenza Covid. Secondo i dati Eurostat, la Slovenia ha registrato il maggior aumento delle importazioni di medicinali, più 31%, mentre la Grecia, con il più 48%, ha fatto segnare il maggior incremento dell'export. La principale destinazione delle esportazioni extra-UE di medicinali e di prodotti farmaceutici nel 2020 sono gli Stati Uniti, seguiti da Svizzera, Regno Unito e Cina. Accelera l'inflazione nell'eurozona. A marzo 2021 è salita all'1,3% rispetto allo 0,9% di febbraio. L'inflazione annua sale anche nell'Unione Europea all'1,7% in aumento rispetto all'1,3% del mese precedente. I tassi annuali più bassi sono stati registrati in Grecia, Portogallo, Malta, Irlanda e Slovenia. Quelli più elevati sono in Polonia, Ungheria, Romania e Lussemburgo. In ben 21 stati membri l'indice dei prezzi è salito. A marzo il contributo più elevato al tasso annuo di inflazione dell'area dell'euro è venuto dai servizi, seguito da energia, cibo, alcol e tabacco. A marzo il contributo più elevato al tasso annuo di inflazione dell'euro.